Cari amanti della buona birra, benvenuti in questo nuovo video. Come avrete già letto nel titolo, oggi faremo chiarezza sulle varie sigle ed acronimi vari che spesso troviamo quando si parla di produzione birraria. Il primo acronimo che mi sento subito di dirvi è iscrivetevi al canale ovviamente, se vi piacciono i miei video vi sono d'aiuto. Adesso partiamo con quelli veri, dopo la sigla. Iniziamo col chiarire come si suddividono i vari colori della birra. Per indicare questi vi sono tre scale. La prima è l'SRM, Standard Reference Method, utilizzata prevalentemente negli Stati Uniti. La seconda è l'EBC, European Brewing Convention, utilizzata ovviamente prevalentemente in Europa. Ed infine troviamo la scala Lobby Bond, indicata con la lettera L. Più bassi saranno i valori di questa scala e più la birra sarà chiara. Al contrario, più alti saranno questi valori e più la birra tenderà ad essere scura. Queste scale sono molto utili anche per determinare i vari sentori provenienti dai malti che impiegheremo nelle nostre ricette. Per farvi un esempio, se vorremmo produrre una birra scura, sapremo che superando gli 80 EBC troveremo dei sentori classici tostati provenienti dal malto scuro. Per convertire le varie scale fra di loro basterà applicare le semplici formule che vi riporto nell'immagine. Ovviamente online trovate molti calcolatori automatici se non volete stare a fare troppi calcoli. Vediamo adesso come si calcolano gli zuccheri presenti nel mosto prima della fermentazione. In birrificio solitamente li calcoliamo attraverso il grado plato, o GP riportato come sigla. Questo indica la quantità di zuccheri sia complessi che semplici presenti all'interno del mosto prima dell'innoculo del lievito, di conseguenza prima dell'inizio della fermentazione. Questo parametro ci dà chiare indicazioni sulla densità del mosto e ahimè è uno di quei valori su cui noi birrifici siamo costretti a pagare la famosa accisa sulla birra. L'altro sistema, sempre per calcolare la quantità di zuccheri presenti nel mosto e molto più utilizzata dai birrai casalinghi, è la scala OG, Original Gravity o densità iniziale, e la scala FG, Final Gravity o densità finale. Sono parametri relativi alla fase pre-fermentazione, OG, e la fase post-fermentazione, FG. Tramite questi valori si potrà calcolare anticipatamente, più o meno, quale sarà il corpo della birra, se più secca o più corposa. In particolare, maggiore la percentuale di abbassamento della densità, ovvero la differenza fra quella iniziale e quella finale, maggiore la birra potrà risultare secca e di conseguenza più scorrevole. Ambe due sistemi si calcolano versando all'interno di un cilindro un campione di mosto portato a 20 gradi. Successivamente inseriremo al suo interno un galleggiante, ovvero un densimetro che ci indicherà su una scala il valore della densità. Un altro acronimo di cui tener conto è ABV, Alcol by Volume, o Volumi di Alcol in italiano. Questa ci indica la quantità di etanolo presente all'interno della birra in volume del contenuto, più comunemente espressa come la famosa gradazione alcolica indicata dal simbolo percentuale per volume. Vediamo adesso che cosa significa l'acronimo IBU, che sta per International Bitterings Unit. Queste sono le unità di amaro presenti all'interno della birra e ne quantificano presenza e quantità. Naturalmente valori alti comporteranno un grado di amaro maggiore. L'IBU viene calcolato tramite delle formule che stimano il valore dei lupoli in base a quelli impiegati. Perché come vi ho già parlato nel video riguardante il lupolo, del quale vi riporto il link qui in alto, ogni tipologia ha un po' un valore a sé e di conseguenza la formula si adatterà al valore di alfa acido presente all'interno della pianta. Tuttavia attraverso l'IBU non sempre è possibile definire precisamente la quantità di amaro nella birra e spesso essa potrebbe essere smorzata da una sensazione di dolcezza iniziale percepita bevendo una birra. Potrebbe capitarci perciò di assaggiare una birra con IBU inferiore ad un'altra ma con un amaro tuttavia più deciso. Per avere un rapporto più preciso sulla sensazione di amaro proveniente dal lupolo o dalla dolcezza del malto entra in gioco un altro parametro e questo è la scala BU-GU, dove BU indica gli IBU e GU indica la densità pre-fermentazione. Mediamente un valore che si aggira intorno allo 0,5 rappresenta il bilanciamento ottimale. Tuttavia se il risultato della divisione è al di sotto di questo valore la birra risulterà più dolce e prevarà al malto. Al contrario se il risultato sarà maggiore di 0,5 si avrà il predominio del lupolo, di conseguenza una birra più amara. Per calcolare questo basterà una semplice divisione. Infatti se stiamo progettando una birra da 28 IBU e con Original Gravity 1,056, il rapporto BU-GU sarà 28 diviso 56, ovvero il perfetto equilibrio 0,50. Purtroppo anche questo valore è un pochino sfalsato per alcuni stili birrari, ad esempio quelli più particolari come le Lambic o quelle birre super lupolate. Infine se vorremmo proprio essere scrupolosi al massimo potremmo utilizzare la RBR, Relative Between Ratio, che tiene conto anche dell'attenuazione del lievito durante la fermentazione. Questa la si può calcolare attraverso la formula che state vedendo, dove AA rappresenta la percentuale di attenuazione apparente espressa in unità. Per lieviti neutri solitamente si aggira intorno all'80%, ovvero 0,80. Mentre 0,7655 è una costante che indica l'attenuazione media calcolata su tutti gli stili birrari, ovvero 76,55%. Bene cari amici, spero a questo punto di non avervi intortato troppo tra calcoli matematici e acronimi vari. Mi auguro di avervi chiarito più semplicemente possibile tutte le varie sigle che possiamo trovare all'interno delle produzioni birrarie e che purtroppo molto spesso non capiamo. Vi aspetto al prossimo video!